Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code per il traffico intenso tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Sulla statale 62 della Cisa traffico bloccato in entrambe le direzioni per una manifestazione al chilometro 15 ad Aulla. Sulla statale 1 Aurelia chiusura di una corsia per lavori tra Monte Pescali e l'area di servizio di Braccagni in direzione Roma. Spostandoci sulla FIPILI, personale sulla strada per lavori allo svincolo di Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni ed in uscita Empoli provenendo da Firenze. Sulla strada regionale 2 Cassia, senso unico alternato e restringimento di carreggiata tra i chilometri 291 e 291 e 550 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!